Oggi scopriremo alcune regole minime di prudenza e attenzione per evitare truffe quando si preleva allo sportello automatico. Innanzitutto controllare la tastiera. Questa deve essere fissa. Infatti potrebbe essere stata posizionata sopra lo sportello ATM una finta tastiera con lo scopo di leggere il vostro codice PIN durante la digitazione. Controllate poi che non ci siano degli oggetti strani posizionati nelle pareti o nei porta dappiant perché potrebbero esserci delle micro telecamere nascoste. Passate poi al controllo della fessura. Anche questa deve essere fissa. Se la carta fatica ad entrare e dovete spingerla potrebbe essere stato posizionato al suo interno uno skimmer. Uno skimmer è un dispositivo in grado di leggere i dati della carta memorizzandoli al suo interno oppure trasmettendoli tramite tecnologia wireless a un dispositivo posizionato poco lontano. Infine prestate attenzione quando digitate il PIN. Coprite la mano di modo tale che nessuna telecamera potrà leggere il PIN e non leggete mai a voce alta il PIN perché qualcuno potrebbe sentirlo e prenderne nota.